Musica Musica Questo sabato a Bologna sarà presente il Premier Monti il Premier Monti sarà l'area del sole per spiegarci qual è la sua ricetta di uscita dalla crisi ma noi la sua ricetta la conosciamo bene la conosciamo bene la ricetta che parla appunto di far pagare la crisi agli operai agli studenti, ai precari agli esodati, ai disoccupati questa è la ricetta del Premier Monti ed è per questo che sabato saremo a contestarlo in questo paese ci sono migliaia di disoccupati, di precari di studenti che non hanno un accesso a reddito che stanno pagando questa crisi Musica 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 Musica